cinque anni di moda essenziale che poi a volte sembrano 100 anni e altre volte sembra ieri il momento in cui finalmente cinque anni fa in questi giorni finalmente trovavo il calzaturificio che ancora oggi crea le nostre scarpe a porto santo il pidio sono stati viaggi infiniti quelli che abbiamo dovuto fare avanti e indietro e indietro per cercare la realtà giusta ma non avrei potuto veramente trovare di meglio questo lo dico perché ogni tanto i video quali guardano e grazie comunque anche dell'accoglienza che è stata molto molto bella in quell'occasione lì qualche mese dopo poi a novembre con questa orribile mail annunciavo alle scritte la newsletter del mio vecchio blog di scarpe l'esistenza del mio brand tra l'altro facendo una cosa che qualsiasi esperto di marketing sconsiglierebbe perché le persone normali prima di lanciare un brand creano un po di hype si chiama quindi di curiosità mettono qualche immagine fanno qualcosa io non ho fatto niente di tutto questo perché mi ricordo che ero proprio terrorizzata all'idea che tutto ciò a cui avevo lavorato per mesi quasi un anno prima per la parte ovviamente di ricerca poi la parte pratica di creazione prodotto potesse diventare di dominio pubblico e quindi diventasse effettivamente qualcosa che poteva essere indossato e portato in giro per il mondo mi ricordo ancora che quando ho cliccato in via sul computer per far partire effettivamente quella newsletter sono poi saltata via lontano dal computer come se fosse non lo so un candelotto di dinamite che stava per esplodermi tra le mani perché ero proprio terrorizzata all'idea che tutto ciò a cui avevo lavorato non fosse più solo mio ma fosse nostro effettivamente e che quindi magari potesse anche non piacere in realtà poi l'accoglienza è stata bellissima e da quel momento in poi piano piano devo dire ad ogni lancio tutta questa ansia questa paura è diventata sempre gioia di condividere perché tutto quello che era il lavoro che per anni avevo fatto con il blog conoscendo gli artigiani capendo come viene effettivamente creata una scarpa era diventato prodotto grazie anche alla mia visione quindi c'era ovviamente il lavoro degli artigiani che per me è fondamentale come vi dico sempre un po tipo battuta non le assemblo le scarpe per vostra fortuna non sono io a farle la parte creativa ovviamente la mia ma c'è la mia visione in ogni cosa che esce nella scelta dei pellami che lo sapete sono fondamentali per me anche quando si tratta del nero non c'è mai vabbè facciamo il nero è quel nero c'è una cura proprio nella scelta anche del delle tonalità delle sfumature della morbidezza dei pellami che dura mesi e che soprattutto all'inizio è durata veramente tanto perché volevo essere sicura che tutto fosse come l'avevo sempre immaginato in realtà non lo è stato perché le cose non sono mai come le immaginiamo è stato sicuramente meglio ma è stato anche molto più stimolante emotivamente perché una quando immagina le cose si le emozioni le immagina proprio quando le vive ti esplodono proprio dentro e c'è da dire che da quel 13 novembre ad oggi di emozioni insieme le abbiamo vissute tantissime io mi emoziono ancora oggi questa cosa ve la devo dire quando mi inviate le foto dei vostri outfit in cui indossate i miei accessori se poi indossate le scarpe di tre collezioni fa con la borsa attuale mi emoziono ancora di più e vi copio pure un po gli outfit perché è proprio bello vedere come persone accomunate evidentemente da una passione comune la possono poi interpretare in un modo così tanto diverso e così unico perché poi è quello il bello io vi do gli accessori però poi la parte il lavoro duro quello vero ce lo mettete voi nel vostro quotidiano ed è questo che poi mi piace vestire proprio il vostro quotidiano renderlo magari un po più speciale con dei colori pazzerelli dei modelli particolari perché è vero che vi ho accompagnate sono molto orgogliosa anche in tanti eventi importanti matrimoni colloqui di lavoro eventi anche professionali di rilievo ma quello che proprio mi piace è vestire il quotidiano ed è per quello che poi non ho mai voluto fare scarpe troppo stravaganti con mega platò tacchi altissimi strass cristalli non è un non è un lavoro facile creare quel tipo di scarpe non voglio assolutamente sminuire il lavoro eccezionale che fanno tante e tanti colleghi però non mi interessa rendere speciale lo straordinario quello che già per un sacco di motivi è straordinario ma voglio che quelle emozioni lì di quando una si veste ci sta attenta e cura ogni dettaglio diventi una coccola che dedichiamo a noi stesse nel quotidiano e quindi in questi cinque anni di coccole ce ne siamo fatte parecchie c'è stato anche tanto confronto c'è stata una community che è comunque cresciuta con me mi ha seguita per i vari lanci per gli eventi dal vivo che sono stati importantissimi a partire da un ormai più di un anno che nell'anno scorso nel 2023 sono stati tantissimi e che mi hanno fatto capire però una cosa importante che ha iniziato a maturare dentro di me dalla fine dell'anno scorso dopo il pop up di milano che è durato una settimana quindi è stato comunque molto impegnativo sotto ogni punto di vista e che mi hanno portata proprio a mettere in atto un cambiamento che già in atto dall'inizio di quest'anno ma che a mio avviso come tutti i cambiamenti va vissuto in modo un po soft altrimenti rischia di essere un passo falso ma anche di generare incertezza confusione tutte sensazioni un po bruttine che non mi piace generare in me ma neanche in voi senza presunzione vi dico che secondo me questo insieme di sensazioni che ho iniziato a sentire che poi sono riuscita finalmente a definire sono molto comuni sono molto diffuse e ve ne sto parlando perché voglio parlarvene questo video non è necessario non è essenziale non è dovuto ma è semplicemente molto voluto perché volevo comunque raccontarvi queste cose perché secondo me sono anche molto legate al periodo storico molto faticoso molto sfidante che tutte noi stiamo vivendo chi di più chi meno e ci tengo a precisare questa cosa tutte non è che se una persona e non è sarà una persona vi parla da quello schermo lì da cui mi state guardando vive in un altro mondo almeno alcune forse sì non è il mio caso io vivo esattamente nello stesso mondo in cui vivete voi ed è anche per questo che ho iniziato proprio a sentire che qualcosa cominciava a stridere non coincideva più e nel momento in cui hai messo a fuoco i tuoi valori quello in cui tu credi te ne accorgi quando stai un po sviando è difficile però capire dove stai sviando per rimettere il treno in carreggiata io ho capito che tutto questo dover dimostrare dover fare accomunato dal concetto di di più quindi fare di più produrre di più mostrare di più condividere di più spiegare di più raccontare di più vi sto facendo venire l'ansia solo a dirlo ecco forse mi avete capita mi stava letteralmente mangiando e stava togliendo a quello che io stavo facendo oltre che la gioia di farlo secondo me anche la cura nel farlo che non vuol dire che sono uscite cose brutte non è questo di questo però non sto parlando dell'oggetto sto parlando proprio del sentimento dell'empatia che secondo me sia un po rotta tra me che creavo cose nello specifico video contenuti stories e chi magari le guarda vedere anche lei sopraffatta da 8 milioni di accessori nuovi da mostrare quello si abbina con quell'altro questa giostra costante del dover essere di più fare di più e dire di più mi rendo conto che se l'avete vissuta in una fase della vostra vita in questo periodo storico vi risuonerà molto se invece non ci siete passate vi sembrerò fuori di testa completamente però restate con me perché alla fine il succo non è è successo questo adesso vi spiego ma semplicemente ho deciso proprio di creare un cambiamento per fare spazio fare spazio delle cose più belle che si possa fare sia spazio fisico quindi liberando le superfici che ancora di più spazio interiore spazio mentale togliendo e ripulendo un po per ritornare all'essenziale e ritorno all'essenziale non può quindi che essere il nome della collezione autunno inverno 2024 2025 di moda essenziale partiremo dalla seconda metà di settembre come sempre via newsletter arriveranno tutte le informazioni via newsletter arriveranno anche tanti contenuti in più che voglio inserire proprio per renderla un po più interessante e non soltanto legata al lancio prodotto c'è questo c'è quell'altro sempre per tornare ad essere un po più quella boutique virtuale che volevo essere all'inizio e che poi si è forse un po persa per strada dietro questa giostra del di più fai di più fai di più che per forza di cose poi soffoca ogni creatività fare spazio è fondamentale per ritrovarsi e per ricentrare un po tutto vi ringrazio di aver guardato questo video per qualunque dubbi ovviamente potete contattarmi e vi chiedo a questo punto visto che a me interessa in modo proprio onesto e genuino sapere voi come state avete sentito anche voi questa sensazione di fatica generale di sopraffazione in ambito personale professionale se volete ovviamente potete raccontarmi se no potete rimanere un po vaghe però vorrei capire se è una cosa che accomuna solo me e tutte le persone che conosco nella vita offline o se invece è molto più comune di quello che sto pensando in quel caso ricordatevi sempre di vivere per vivere e non perché dovete dimostrare che state vivendo questo vale nel personale e professionale per tutto se resta qualcosa da questo video che sia questo